Musica Domani la quattordicesima tappa del Giro d'Italia, blocco del traffico dalle 10 alle 18, marca diviso in due, ecco come aggirare i divieti. Treviso vestita in rosa per la cronometro partenza dei ciclisti da Piazza del Grano, omaggio alla maglia nera Nani Pinarello. Evasione delle tasse e degrado, il governatore e il candidato della Lega Zaia sui Rom fanno fatica a sentire dall'orecchio della legalità. Le elezioni regionali, è l'ora di prendere decisioni forti anche impopolari, così la lista del Veneto del fare con Tosi. Cento anni fa, 48 ore prima della fine della pace, commemorazione sul Piave della CGL col segretario generale Camusso. Inquietante atto intimidatorio, nella notte a Gorgo al Monticano, i gnoti appiccano il fuoco all'ingresso dello studio Mazzocco e Favero. Pedonalizzazione comune e categorie intorno a un tavolo, accordo su ZTL a fasce orari e recupero dei negozi ispiti e varchi elettronici. Le previsioni del tempo per il fine settimana, pioggia destinata a durare anche domani, miglioramento da domenica. Buonasera dalla redazione di TG Treviso, eccoci con una nuova edizione del nostro telegiornale. Partiamo dal Giro d'Italia perché domani sarà la giornata in rosa, nella marca alle 12.15. Il primo concorrente partirà da Piazza del Grano per la tappa a cronometro dedicata a Giovanni Pinarello. Una corsa che inevitabilmente causerà dei disagi alla circolazione. Allora nel primo servizio con Lucio Zanato il punto su divieti e deviazioni. Giro d'Italia, ecco la carta della viabilità alternativa a Treviso. Da giorni la città oltre al rosa di palloncini e bandierine è adobbata con un numero sterminato di cartelli con divieto di parcheggio che variano a seconda della distanza dalle strade maggiormente interessate dalla gara. Le uniche zone che saranno interdette al traffico sono quelle che sono direttamente interessate alla gara sportiva e cioè Piazzale Burchellati, Piazza Mazzini e tutta la zona di Porta Santo Maso e Viale Vittorio Veneto, Viale Felicente quindi in direzione Villorba. Città solo parzialmente bloccata. Non sarà possibile percorrere la circonvalazione esterno Mura dall'intersezione con Porta Carlo Alberto fino a Viale Fragiocondo. Il resto delle strade rimarranno percorribili permettendo di raggiungere i parcheggi fuori Mura ma anche sostare ad esempio in città Giardino. Tutta la zona sud non sarà interessata così come la tangenziale consigliata per il transito est-ovest. Percorribile parzialmente anche Viale della Repubblica con limitazione fino a via San Pelaio mentre nella parte a nord di Treviso che vorrà passare ad est-ovest della città dovrà utilizzare il sottopasso di Lancinigo. Corsa Rosa che taglierà in due Espresiano, Ponte dell'Apriula a parte di Corneliano per poi snodarsi sul Fellettano e il quartiere del Piave fino a Valdobbiadene. Una giornata di passione in tutti i sensi e per tutta la marca con orari ben precisi. Le chiusura partirà indicativamente attorno alle 10 del mattino di sabato e terminerà attorno alle ore 18 sempre di sabato 23. E ora andiamo a vedere malgrado la pioggia come Treviso si è preparata al passaggio della Corsa Rosa. Ultimi preparativi per il giro di domani? Esatto. Ultimi ritocchi questa mattina per la Treviso del Giro. In città è un pullulare di bandierine, palloncini, cartelloni, tutti rosa. La bicicletta ha il centro dell'attenzione con abbinamenti ecologici come la pedalata energetica che accende i cartelli luminosi o storici come la splendida mostra sulle biciclette nella storia e nella grande guerra. Sono le mille sfumature di questa corsa che ognuno interpreta a modo proprio. C'è chi si veste in tinta e chi veste le vetrine di rosa. Abbiamo voluto anche noi collaborare pensando al grande personaggio che è stato Nanni Pinarello. Giovanni Pinarello, storica maglia nera del giro, passato da atleta a costruttore di quelle biciclette che hanno fatto sognare milioni di appassionati. Ma cosa direbbe Nanni Pinarello di tutto questo? Certamente che sarebbe entusiasta. Perché è una cosa particolare, questo giro, questa confusione che c'è fuori. Sicuramente sarebbe contento. Non a caso la cronometro parte proprio davanti allo storico negozio Officina dove Pinarello si sposta dopo i primi anni a Catena di Villorba. Cos'era per Giovanni Pinarello la bicicletta? Era tutto. Perché lui, non so, anche la notte penso si sognasse della bicicletta. Era proprio una cosa che faceva parte di se stesso. Così come Pinarello appartiene a Treviso che pur sopportando il disagio delle chiusure e deviazioni vuole ricordare il suo nane tra i banchi della frutta San Parisio, nelle vetrine di tutta la città ma anche semplicemente continuando a fare ciò che si fa tutti i giorni. Si va più fatica a pedalare in montagna o a pedalare per affilare le lame? Ma non è fatica, è come pedalare in salita quando si affila le lame, però non è fatica, anzi è un grande piacere. Lasciamo il giro, passiamo alla politica regionale. Rom sordi dall'orecchio della legalità, così oggi il governatore e candidato della Lega, Luca Zaia. Questione Rom che torna ad animare la campagna elettorale in vista delle regionali del 31 maggio. Rom che non pagano le tasse come gli altri a Treviso per ammissione di un assessore comunale. Rom accampati a Campidui di Conegliano con il purtroppo frequente corollario di degrado e sporcizia che sta esasperando i residenti. Queste persone fanno una fatica terribile a sentirci dall'orecchio della legalità. È il governatore del Veneto e candidato della Lega Nord, Luca Zaia, a sottolineare ancora una volta come i nomadi debbano rendersi conto che una convivenza civile non può prescindere, dice, dal rispetto della legge dei residenti, della cosa pubblica e dal pagamento dei servizi utilizzati. Niente di più e niente di meno di quanto fa abitualmente ogni cittadino veneto per bene. Zaia si rivolge alle comunità Rom presenti in Veneto, che continuano a rendersi protagoniste, a suo dire, di azioni e comportamenti che violano la legge e le più semplici regole di convivenza civile. Non è una questione di etnia, conclude, ma di banali concetti di rispetto della legge. Mi auguro che queste persone ci pensino seriamente e si comportino di conseguenza, altrimenti l'alternativa non può che essere la tolleranza zero. Sulla sicurezza, ma non solo, torna anche la lista del Veneto del Fare con Tosi. È ora, dicono, di prendere decisioni forti. Il Veneto del Fare perché ci vuole pragmatismo. Bisogna effettivamente avere delle idee chiare su come risolvere i problemi della regione, che sono molteplici, e soprattutto agire con una certa speditezza perché la situazione lo impone senz'altro. Prendere decisioni drastiche, anche dolorose, per uscire da un immobilismo che sta mettendo in ginocchio il territorio Veneto. Da qui l'invito a fare, ad agire, della lista a sostegno di Flavio Tosi. Dal suo osservatorio privilegiato, il mottense Stefano Colledan, avvocato da 25 anni, assicura che non c'è più tempo da perdere. Mai, come in questo momento, ritengo che sia necessario intervenire con provvedimenti forti, chiari, precisi. Bisogna fare perché, secondo noi, in questi anni si è perso molto tempo. In questo periodo in cui c'è stata la crisi, era necessario assumere delle decisioni forti, talvolta anche impopolari, e riteniamo che non si sia agito in questo senso. Necessari interventi su più fronti. Gli ambiti fondamentali su cui bisogna intervenire sono la sicurezza, il repristino della legalità che abbiamo praticamente perso, poi c'è un certo disagio sociale dovuto da una politica dell'immigrazione che, senza altro, è stata gestita in maniera molto approssimativa. Bisogna agire assolutamente, secondo me, nell'ambiente perché siamo una delle regioni più inquinate d'Europa. Io sono all'avviso che dovremmo avere l'umiltà di comparare alcune legislazioni di altri paesi. Mi riferisco in particolar modo a paesi del nord Europa, ma anche extraeuropei, tutte quelle leggi che possono veramente funzionare. Temi economici in primo piano oggi sul Piave, dove la CGL ha organizzato un evento col segretario generale Camusso per commemorare le 48 ore prima della fine della pace, cent'anni fa. Legge Fornero, disoccupazione, ripresa economica, la commemorazione organizzata sul Piave a Maserada dalla CGL, 48 ore prima della fine della pace, il segretario generale del sindacato Susanna Camusso critica le previsioni ottimistiche del presidente della BCE Mario Draghi. La disoccupazione giovanile resta alle stelle, attacca. Viene dato per scontato, perché appunto i dati vengono giustamente raccontati così, viene dato per scontato che il fatto che non ci sia un'ulteriore crescita della disoccupazione può portare con sé come dato costante la disoccupazione esistente. Vuol dire che noi ci rassegniamo al fatto che il 25% di produzione persa di questo paese è persa per sempre. Questo vuol dire che il nostro paese sconta l'idea che i giovani continuino ad emigrare. Per poter dire davvero che cambia la stagione e che si è ottimisti, bisognerebbe cominciare a vedere quei numeri ridursi davvero, perché altrimenti è la constatazione di un paese che rimane economicamente molto fragile, più fragile di prima della crisi e con poche possibilità di essere un paese in sviluppo competitivo rispetto al resto d'Europa. 48 ore e appena, 100 anni fa, separavano l'Italia dallo scoppio di un conflitto che cambiò totalmente il paese anche dal punto di vista del lavoro, da cui l'iniziativa voluta dalla CGL a Salettuol. Ci segna innanzitutto che bisognerebbe costruire la pace, perché la guerra, oltre a essere la grande difficoltà di coloro che la combatterono, cambia le condizioni economiche del paese, è una stagione di straordinaria povertà. Il valore della memoria, il valore di ricordare la tragedia della guerra per riuscire a mantenere il patrimonio della pace, questo è il significato dell'iniziativa di oggi, partendo tra l'altro dal punto di vista di chi quella tragedia l'ha vissuta sulla propria pelle, cioè il popolo, cioè i lavoratori, cioè i contadini che in guerra ci sono andati. Questo è stato il senso dell'iniziativa, avvalorata chiaramente dalla presenza del segretario generale Susanna Camusso. E ora la cronaca con l'inquietante episodio che si è verificato nella notte a Gorgo al Monticano, dove i gnoti hanno appiccato le fiamme all'ingresso dello studio legale Mazzocco e Favero in via Postumia. Ad andare a fuoco lo zerbino, il rogo per fortuna contenuto, ha interessato poi anche l'ingresso della vicina agenzia di assicurazioni. I danni alla fine sono stati minimi, era circa mezzanotte. La dinamica dell'episodio non convince i carabinieri, sia per l'orario che per le modalità seguite. Non è certo, se l'obiettivo fosse effettivamente lo studio di avvocati, non si esclude che potesse essere anche un'auto parcheggiata di fronte al portico e poi prontamente spostata. Indagano i carabinieri della tenenza di Oderzo. Festa della Polizia di Stato questa mattina a Lappiani, nel 163esimo anniversario di fondazione. Nel discorso del questore Tommaso Cacciapaglie, il riferimento al recente arresto di un poliziotto dell'ufficio immigrazione, doloroso, ha detto il questore, ma compiuto con convinto e irrinunciabile senso di verità e giustizia. Cacciapaglie si è soffermato sulla questione profughi, sottolineando come i cittadini trevigiani abbiano saputo gestire l'emergenza e immigrazione. Ha detto, rivolgendosi alla platea, ciascuno di voi sa che stiamo parlando di un vero e proprio esodo biblico. Oltre 1.500 gli stranieri identificati in questura, 304 avviati alle commissioni territoriali, 260 espulsi. Infine, i numeri dell'attività sul territorio e le benemerenze ai poliziotti. E si è tenuto questa mattina invece l'incontro tra il vice sindaco Roberto Grigoletto e le associazioni di categoria della città per discutere un'ipotesi condivisa, finalmente, di pedonalizzazione. All'incontro erano presenti oltre al comune i rappresentanti di Ascom, Confartigianato, Confesercenti, Artigianato Trevigiano e Moica, proposta condivisa su fasce orarie, dice Grigoletto, recupero dei negozi sfitti e varchi elettronici. Via le transenne, il progetto di ZTL si svilupperà attraverso Urbecom. Grande interesse da parte delle categorie per la proposta del comune di avviare un progetto condiviso con l'associazione per la valorizzazione proprio dei negozi sfitti. Siamo alle previsioni del tempo per il fine settimana. Buonasera al nostro generale Giancarlo Iannicelli. Buonasera. Qual è il destino che attende il Giro d'Italia domani? Velocemente spieghiamo i meccanismi che determineranno il tempo. Abbiamo questa alta pressione atlantica che è troppo a nord sull'Atlantico e da lì richiama aria fresca e umida dell'Atlantico su di noi. Su di noi attiva un ciclone, una depressione che è produttrice di sistemi perturbati, che pian pianino si spostano a sud, ma che ancora interesseranno nelle 24 ore prossime tutte le nostre zone. Quindi, più in dettaglio, su Treviso cosa succede domani? Inizialmente il cielo è molto nuvoloso, prestissimo, ancora con qualche precipitazione, non intensa, ma abbastanza diffusa. Poi abbiamo una pausa, sempre con cielo molto nuvoloso, coperto. A metà giornata, purtroppo quando inizia, dovremmo avere di nuovo qualche precipitazione nelle ore centrali della giornata, poi un miglioramento andando avanti nel pomeriggio. Per domenica si interrompe questo flusso fresco e avremo un netto miglioramento con un cielo che tende al poco nuvoloso, quindi rivedremo finalmente il sole. Questo per domenica. Le temperature con questa situazione abbiamo avuto un brusco calo di 7, 8, 10 gradi anche e ieri, domani ancora avremo temperature basse, minime 14, 15 gradi e massime arriveranno a 16, 17, quindi non cresceranno. Ecco però che dopo domani subito compiono un balzo in avanti e arriveranno a 23, 24 gradi con venti che per domani ancora sono da nord, deboli, moderati e poi si pongono dai quadranti meditionali per dopo domani. Finiamo con il mare, il mare è previsto mosso domani e poi poco mosso per domenica. Benissimo, allora grazie al nostro Giancarlo Iannicelli, subito la parola ad Angelo Squizzato per le anticipazioni di Agricoltura Veneta. Buonasera a tutti, nella puntata di domani e di domenica di Agricoltura Veneta vi parleremo di insaccati, di prosciutti, ma soprattutto vi parleremo del lardo. C'è una riscoperta di questo prodotto Paolo Verdelli? È un prodotto che è stato riscoperto perché è buono e comunque nella giusta misura fa anche bene. Ecco, lo si presenta in diverse forme? Sì, noi lo facciamo in due tipi, facciamo un lardo del nonno e poi qui noi abbiamo un eccezionale prosciutto. Certamente, il prosciutto dolce di Montagnana. E poi vi parleremo dei nostri buoni prodotti veneti che stanno andando bene all'estero, come ci testimonia un nostro ristoratore importante che sta facendo della bella cucina all'estero, Tino Vettorello. E poi tante, tante notizie. Appuntamento a domani e domenica con Agricoltura Veneta. Tutti contro tutti, invece, in vista delle elezioni del 31 maggio, anche stasera a Focus dalle 21.05, il confronto tra i candidati. In studio col direttore Luigi Baccialli, politici Pietrangelo Pettenò, Gian Piero Possamai, Leonardo Muraro, Miriam Poloni, Vittorio Zanini, Otello Bergamo, Michele Favero, Ennio De Pieri. Come al solito, aspettiamo i vostri interventi con gli SMS. È davvero tutto, noi ci fermiamo qui. Grazie per essere stati con noi. TG Treviso torna domani. Arrivederci.